grande Fabricio, come va? tutto bene? tutto bene, ciao Enzo, tutto a posto? tutto a posto sì ho visto che la bolletta, notavo adesso una bolletta di consumi della fattura nel mese scorso, 4817 kilowatt di consumo reale da distributore come fa sempre Ennegan dato il discorso che l'energia Ennegan è green al 100% si è determinato, abbiamo determinato un risparmio di 2671,5 kg di CO2 e questo corrisponde come se avessimo piantato qui a Francavilla cinque alberi e questo è importante perché c'è un discorso, questa attenzione alla tutela dell'ambiente